Marco Giavazzi, presidente del sistema POMATILDE, questa cartina non è una semplice piantina bella da vedere, magari da consultare per poter studiare un itinerario, c'è un grande lavoro dietro che in occasione dei MATILDE DAYS del prossimo sabato e domenica si potranno poi vivere in prima persona. Sì, questo è quello che in quest'anno ci dà lo stimolo per andare avanti nel post-terremoto, questa è la seconda edizione del MATILDE DAYS, la prima edizione è stata effettuata con i percorsi di tutti i territori matildici, ricordiamo che sono i territori che riguardano il sistema POMATILDE e sono i 23 comuni che ne fanno parte, nel qual caso e in questa circostanza è stato veramente importante quest'anno come l'anno precedente, l'anno precedente abbiamo dovuto cambiare l'intinerario a seguito del terremoto, quindi è stato un viaggio diciamo sui luoghi del terremoto, ecco quest'anno è momenti di festa, i musei, tutto quello che il nostro territorio offre di grande e di importante all'interno di quello che è stato questo contenitore che prima è stato distrutto e adesso pian pianino si sta riappropriando dei propri spazi. Due autobus in due giorni che partiranno da Mantua faranno un circuito importante, importante non solo per chi viene da fuori ma soprattutto per i mantovani, l'interesse nostro è questi autobus che devono portare la consapevolezza nei luoghi stessi in cui noi siamo che fanno parte del sistema, la gente si deve appropriare della propria cultura e del fatto di averla salvata, questo è il nostro messaggio.